Salve, salve da Marco Calabro, per conto oggi dico credit metà prezzo. Andiamo a vedere un orologio di Michael Kors. L'orologio è bello, elegante, ha un blu molto, come dire, sicuramente molto personalizzante. Andiamo a vedere l'orologio che di per sé è un prodotto sobrio, molto semplice, molto elegante. Ha, come vediamo, gli indicatori che sono delle semplici linee, gli indicatori delle ore. Poi vediamo che le due frecce di ore diminuti sono in stile spada, quindi vanno a chiudere la punta. Ed invece l'indicatore dei secondi vediamo che ha proprio il retro di una punta al finale del suo percorso, quindi nel lato più piccolo. L'orologio io direi che è sicuramente un orologio femminile perché in corrispondenza delle ore si vede appena appena in maniera impercettibile, ci stanno dei piccoli brillantini sopra le linee delle ore. Forse non si arriva a vedere nel prodotto. L'orologio, questo orologio di Michael Kors, ha un costo commerciale di, vediamolo, 169 euro. Andiamo a vedere l'offerta di co-credit e metà prezzo. Come abbiamo detto il prodotto ha un costo di, accendiamo la macchinetta, ha un costo di 169 euro. Comunque co-credit e metà prezzo riconosce lo sconto contanti, quindi anche se il pagamento è in due soluzioni, quindi meno 5%, l'orologio viene 160 euro e 50 centesimi. A questo punto però noi andremo a pagare subito con co-credit e metà prezzo la metà, quindi 80 euro e 20. Mentre pagheremo gli altri 80 euro e 20 60 giorni dopo il pagamento della prima quota. Questa formula che in effetti apparirebbe abbastanza nuova, però è una formula che fu creata nel 1911 dalla catena di supermercati Sears, perché fu creata praticamente per gli agricoltori che dovevano aspettare che giungesse il raccolto per poter completare il loro impegno d'acquisto. Con questa formula in effetti si mettono le persone nelle condizioni di avere una formula agevole di pagamento. Quindi 80 euro e 20 si pagano subito e altri 80 euro e 20 si pagano dopo 60 giorni. Questo che stiamo vedendo è l'orologio al femminile sicuramente di Michael Kors. Qua vediamo il contenitore, cioè la scatola dell'orologio e qui vediamo il libretto delle istruzioni e garanzia. Grazie sempre per ascoltare i video di Marco Calabro e arrivederci al prossimo video.